cari amici appassionati Ciao a tutti da Beatrice Frangione benvenuti in questa nuova puntata di Motor News, quest'oggi dedicata al WEC. Lasciamo volutamente da parte per un po', almeno per oggi la Formula 1 perché lo scorso fine settimana spazio è corsa la 6 ore o meglio la quasi 8 ore nelle Ardenne. Una gara folle che andremo a commentare con il mio ospite di oggi giornalista di motorsport.com Francesco Corghi Ciao Beatrice, ciao a tutti Ciao carissimo. Allora innanzitutto come stai? Tutto bene, tutto bene, sono state 6-8 ore impegnative Una gara decisamente folle, Francesco condizionata dalla scelta della direzione gara di far ripartire poi tutto con 1 ora e 44 minuti sul cronometro dopo che il tempo andava ad esaurirsi mentre la bandiera rossa era stata sventolata poi per l'incidente della Cadella che è venuto alla quinta ora. Andrei un attimo per step perché questo incidente è stato un errore molto grave da parte del pilota Cadillac oppure no? È stato abbastanza grave perché Erl Bamber ha fatto un errore di valutazione ha preso la scia della Porsche che lo precedeva e sul rettilineo del KML si sono ritrovati ad affrontare il doppiaggio della BMW GT3 LM GT3 che in quel momento ovviamente è rimasta sulla sua linea di destra Androer si è spostato sulla sinistra per doppiarlo Banda era provata a infilarsi in mezzo senza calcolare probabilmente che in quel momento non era ancora tutto davanti alla M4 per cui tagliandogli la strada virando sulla sua destra l'ha centrato in pieno col posteriore e da lì è venuto fuori una carambola dalla quale tra l'altro nessuno si è fatto nella quale nessuno si è fatto niente quindi per fortuna Poteva andare peggio Poteva andare sicuramente peggio però il fatto che la direzione gara abbia preso poi questa decisione di far ripartire la corsa che oramai sembravano i giochi un po' fatti in realtà però questo va a creare un precedente non da poco per il futuro no? Sì bisogna fare chiarezza il regolamento dice che in caso di bandiera rossa nel WEC il tempo continua a proseguire lo si è visto anche in altre categorie questa cosa penso a una 24 ore sul Norshleife che durante la notte è stata interrotta per pioggia e ripresa la mattina quindi di fatto una gara durata anche 8-9 ore in sostanza e nel WEC il tempo va avanti secondo me l'errore della direzione gara è stato quello di aspettare troppo nel comunicare la ripartenza perché in quel momento il tempo scorreva e le barriere era evidente che erano molto messe male e quindi ci terrei anche a dire che comunque l'intervento degli addetti e dei commissari è stato il più veloce possibile in quel momento la pista era messa decisamente male sì esatto sicurezza prima di tutto ci mancherebbe soprattutto sul rettilineo del Kemmel che è un po' in discesa e si raggiunge in grandi velocità e quindi il regolamento dice che a discrezione del direttore di gara la gara può riprendere aggiungendo il tempo che si è perso in modo da completare il tempo totale del previsto quindi in questo caso erano 6 ore la comunicazione è arrivata che sul cronometro mancavano 10 minuti alla fine quindi c'era già chi si fregava le mani e poi ci arriviamo su chi si fregava le mani esatto io come ho già anche scritto e parlando anche con gli addetti ai lavori nel post gara sì come hai detto tu si crea un precedente brutto perché purtroppo in questo caso si va si va diciamo a sentimento su alcune piste tipo Imola da una certa ora in poi non si può girare perché ci sono delle regole ferree perché Imola è in mezzo alle case quindi per questioni di rumore ovviamente tutto deve essere fermo quindi in questo modo se succede qualcosa una pista sì una pista no secondo me bisognerà rivedere un attimo il regolamento e soprattutto rivedere anche i tempi di comunicazione perché aspettare così tanto mettere un po' di chiarezza su una cosa che di fatto è stata anche decisiva perché per ringraziare della situazione in classe percare è stata la Porsche che è andata a vincere con la 963 privata e greffata Iota poi seguita da quella ufficiale del team Penschi la numero 6 ti aspettavi una Porsche così competitiva in questo 2024? sì perché se ti ricordi dopo Daytona avevamo fatto un po' di punto della situazione e quest'anno le Porsche sono cresciute veramente tanto 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 io sono convinto che dal punto di vista anche del BOP per quello che sono i livelli tra Porsche e Ferrari hanno raggiunto secondo me un buon equilibrio manca ancora un po' la Toyota io spero che possano essere diciamo rimesse in gioco per le MAN così come la Peugeot che è la macchina nuova e in effetti si sono lamentati di non aver potuto mostrare quello che è il miglioramento del potenziale della 9X8 e quindi sì le Porsche comunque sono da tenere d'occhio perché anche i NIMSA stanno andando forte quindi sono le vetture secondo me quest'anno che possono essere in riferimento sono la Toyota del 2023 in poche parole no perché la Toyota del 2023 beneficiava di anni e anni di esperienza se mi posso permettere di dire mentre la Porsche invece durante l'inverno ha fatto un grandissimo lavoro non per niente in Qatar ha vinto praticamente sullo stesso livello di BOP in cui aveva infinito in Bahrain a novembre quindi con una vettura sviluppata durante l'inverno migliorata tramite i test è riuscita ad essere molto ma molto competitiva la Toyota 2023 si poteva anche nascondere e all'occorrenza tirava fuori quello che si teneva nel taschino che gli altri ovviamente non potevano prevedere abbiamo detto che qualcuno si stava già sfregando le mani prima della decisione decisiva mi verrebbe ne ricompre perché volevano già scrivere il test e andare a intervistare noi eravamo già lì che ci stavamo sentendo a distanza tu giustamente eri a spa io ero qui nel mio ufficio di casa però stavamo già provando a commentare quello che poteva essere uno straordinario risultato per la Ferrari che chiude con la 50 la 51 invece in terza e quarta posizione mi verrebbe da dirti caro Francesco che la Ferrari non aveva sbagliato niente e stavano conquistando di fatto la vetta della classifica probabilmente sarebbe stata una doppietta se non sbaglio era una doppietta poteva essere una doppietta poteva essere una doppietta e invece e invece cioè purtroppo per la Ferrari ma purtroppo anche per tutti tranne che per le due Porsche che hai citato prima alla ripartenza dietro la safety car sono stati tutti costretti ad entrare i box per fare un pit stop di emergenza spieghiamo quando c'è safety car o gara neutralizzata tu puoi rientrare la pit lane è aperta solo per fare rifornimento quindi ti viene consentito di entrare fare rifornimento di benzina o energia quello che ti serve per proseguire dopodiché quando esce la safety car allora puoi tornare nuovamente ai box e fare benzina completa gomme cambio pilota e quant'altro le Ferrari come tutte le altre che erano dietro tranne appunto le due Porsche si sono ritrovate che dovevano fare benzina anche Calado a fine gara che abbiamo incontrato con un volto molto tirato infatti avevamo anche un po' di timore anche a rapportarci con lui perché si vedeva che gli scocciava parecchio il risultato lui ha detto entrando così a safety car noi ci siamo ritrovati che a livello di benzina potevamo fare un giro pieno oppure un paio al massimo dietro la safety car andando dentro quindi di fatto sono state tirate fuori peccato perché come hai detto tu comunque le Ferrari erano andate molto bene l'aria di doppietta poteva esserci che Ferrari è quella di quest'anno Francesco? che Ferrari stai vedendo? allora è una Ferrari che secondo me e anche secondo loro ha ancora dei margini di miglioramento perché l'ingegner Giuliano Salvi ci ha detto chiaro e tondo che la macchina è all'80% della conoscenza da parte degli ingegneri è una macchina che secondo me sta ritrovando cioè sta trovando un po' di stabilità nel suo utilizzo mi spiego l'anno scorso c'era stato un sacco di alti e bassi anche di consumi gomme e gestione anche delle operazioni in pista invece Imola a parte che secondo me fa un po' stare a sé quest'anno anche in Qatar onestamente non hanno commesso degli errori semplicemente la macchina probabilmente non era stata resa in condizioni di BOP di esprimersi al massimo cioè esprimersi sul livello delle altre la Porsche sicuramente era migliorata tantissimo a Spa è andata veramente forte sul giro secco non ci sono problemi soprattutto quando hai Antonio Fuoco in macchina perché lui è una sicurezza sotto tutti i punti di vista aggiungo una cosa un piccolo retroscena la Ferrari penso che da adesso in poi utilizzerà sempre Fuoco in qualifica e probabilmente per guidi sulla 51 perché hanno visto che il cambio di peso del pilota influisce parecchio siccome il regolamento ti consente di mettere chi ti pare giustamente bisogna anche stare assente di evitare delle penalizzazioni squalifiche perché poi ripartire dal fondo non è mai facile sì ecco lì la Ferrari sicuramente ha commesso un piccolo errore una leggerezza perché hanno cambiato un pezzo tutto il blocco posteriore cioè ala diffusore e passa ruoto se avete visto la gara del Catare quello che è successo sulla 51 che si è staccato e quindi l'hanno dovuto riattaccare dopo il contatto con una GT3 e quindi cambiando questo pezzo i pezzi ovviamente escono tutti insieme ma non sono esattamente tutti uguali non c'era il tempo di fare la pesa quando sono andati in pesa dopo le qualifiche c'era un chilo di differenza forse anche qualcosina in meno e purtroppo la squalifica è inevitabile da quel punto di vista lì però la Ferrari va la Ferrari va e comunque a Spa anche conquistato con la hypercar privata la 499p numero 83 conquistato un podio con l'equipaggio composto da Yee Kubica e Schwarzman come commenti questa 83 sino ad oggi tra l'altro tu hai anche recentemente fatto una bellissima intervista a Robert Kubica che potete trovare sul canale youtube di motorsport.com e lui stesso dice sì nonostante siamo un equipaggio che non ha il know-how o comunque non abbiamo tantissima esperienza però stiamo riuscendo a fare tanti progressi sì vi invito anche io andare a vedere perché diciamo che Robert io glielo ho detto tu sei il maestro che sta cercando di insegnare agli altri come si fa questo mestiere nel frattempo però stai anche tu imparando è una macchina molto complicata perché ci sale per la prima volta però Kubica ha tanta esperienza i fei l'anno scorso era pilota Porsche sulla 963 di Giotta quindi sicuramente anche lui ha già qualcosa da tenersi da tirare fuori dal suo taschino e Schwarzman quando ha provato la 499 nei test in Bahrain l'anno scorso è andato subito forte e lui stesso ha detto che comunque è un tipo di macchina che si addice più al suo stile di guida le operazioni vengono fatte esclusivamente da F-Corse c'è una condivisione dati con Ferrari e io credo che possano anche loro prima o poi lottare per un podio assoluto oltre che per la categoria dei privati quindi le Ferrari diventano tre e questa cosa potrebbe secondo me avere un peso anche tipo Aleman quando magari bisogna differenziare delle strategie spero almeno che venga che si possa vedere una lotta anche con vetture private come lo è stato a Spa tra le Porsche di Jota e soprattutto quella di Proto hai giustamente tirato in ballo Le Mans l'attesissima Le Mans forse la gara più attesa da tutte le case e da tutti i piloti che fanno parte del mondiale Endurance Francesco chi vedi favorito secondo te a Le Mans chi è più da vittoria in un tracciato come Le Mans lo spettacolo dico perché l'anno scorso la Ferrari ha vinto è vero però se l'è comunque dovuta sudare non è che ha vinto come ha vinto la Toyota diciamo che Pier Guidi ha avuto il sangue freddo di saper gestire anche qualche piccolo inconveniente sì il suo sospiro di sollievo lui ha detto che era tranquillo quando c'era stato il problema al pit stop però nell'homeboard si vede proprio che fa tiro proprio un bel sospirone di sollievo quindi nessuno era tranquillo in quel momento però al di là della vittoria della Ferrari se vi ricordate fu una gara dove ci furono all'inizio delle safety car ci fu la pioggia anche durante la notte dove in testa si alternarono parecchie vetture le Porsche le Peugeot durante la notte la Ferrari ovviamente la Toyota con la quale ha combattuto fino alla fine quindi io credo che quest'anno si potrà vedere al di là del meteo pazzo che si incontra alle man abbastanza spesso si potrà vedere una bella gara e già l'anno scorso secondo me a livello di BOP si era raggiunto un buon equilibrio alle man e io spero che si possa riproporre una cosa del genere perché in una categoria così combattuta con così tante macchine belle e forti secondo me c'è veramente veramente da leccarsi i baffi e con così tanti secondo me appassionati che si sono avvicinati tanto a questa categoria secondo me già dallo scorso anno c'era tanta attesa tanta aspettativa e devo dire che per i tifosi della Ferrari non era stata certamente delusa caro Francesco noi siamo arrivati alla conclusione della nostra chiacchierata ovviamente che peccato infatti il tempo vola quando ci si diverte come si suol dire io ti ringrazio ti auguro un buon fine settimana in quel di Misano per la GT grazie e ovviamente non perdetevi la 24 ore di Le Mani ma non è detto che poi ci risentiremo proprio per commentare quello che accadrà alla 24 ore intanto grazie ancora Francesco Corghi di Motorsport.com per essere stato con noi cari amici noi siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Motor News ma restate con World Sport Plus per seguire tutti i nostri appuntamenti come sempre ringrazio Stefano in regia e noi ci vediamo alla prossima puntata di Sport Today ciao a tutti ciao a tutti